La nostra non è difficile saperla, quella di Adriano non è difficile immaginare quella è una passione, ma anche Franco ce l'ha scritto qua, quella è la sua passione. Ma ognuno ha la sua passione, e per la sua passione ciascuno farebbe qualsiasi cosa, affronterebbe qualsiasi ostacolo, qualsiasi... si piange per le proprie persone, ma non importa. E' diverso quando tu vedi qualcuno a cui vuoi bene, che soffre per le sue passioni, questi potrebbero aiutare, ma non puoi. Questo pezzo mi è stato ispirato da una ragazza piena di passioni, mia figlia, e lo dedico a tutti quelli che hanno un sogno, per quel sogno lottano e per quel sogno spesso, ahimè, che soffre per le sue passioni, ma non puoi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti